L'industria del benessere in Italia è in decisa crescita, lo dice l'analisi di FederTherm presentata durante il convegno organizzato a Suio di Castelforte, in provincia di Latina, per i cento anni dell'organizzazione. I 2 miliardi e 600 milioni di euro di fatturato delle spa collocano il paese Italia al terzo posto nella top 10 europea. Gli stabilimenti termali invece sono 321, di questi 289 sono accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che ha erogato oltre 11 milioni di prestazioni proprio per cure presso le terme. Nel complesso il settore termale italiano registra ricavi per 747 milioni di euro e impiega 11 mila persone. Il rapporto è stato illustrato dal professor Nicola Quirino, docente di economia sanitaria presso la LUIS Guido Carli. Negli ultimi anni si è assistito per quanto riguarda il settore termale a un aumento degli arrivi presso le strutture ricettive di proprietà delle terme, quindi sono aumentati i turisti che si recono alle terme e soggiornano presso le strutture. Il problema è che si è gradatamente ridotta in maniera molto significativa quella che è la permanenza media, cioè la durata dei soggiorni. Significa quindi che abbiamo un tipo di turismo di tipo, diremmo così, mordi e fuggi, cioè si recono alle terme per soggiornare poco più di tre giorni. Le terme risentono della forte concorrenza esercitata non solo dalle strutture consimili che sono tutte le strutture del wellness piuttosto che del fitness e quant'altro, le quali spesso utilizzano anche impropriamente il termine terme pur non utilizzando affatto acque dalle riconosciute proprietà terapeutiche, ma c'è anche la concorrenza importante che viene dai paesi dell'est Europa che hanno livelli di tassazione molto più bassi del nostro paese e sono altamente competitive sul versante dei listini dei prezzi che praticano la clientela. Durante il meeting di Suio si è parlato di competitività ostacolata da una burocrazia complessa, come evidenziato dal presidente di Federterme, Costanzo Iannotti Pecci. Mettiamo in condizioni le nostre istituzioni nazionali che sono chiamate a gestire i fondi europei, i fondi per la coesione, di gestirli in maniera se non semplice snella, per evitare che dal momento in cui io chiedo di poter accedere a determinate provvidenze, al momento in cui queste mi vengono concessi, in alcuni casi passano quattro o cinque anni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.